Buon pomeriggio, benvenuti dalla redazione web della città al nostro secondo appuntamento di oggi con le notizie. Cominciamo con la viabilità, andiamo a vedere qual è la situazione prevista per questa sera e per domani. Vi segnalo due divieti di transito in via Cellini tra via Grossi e via Muratori e in via Botero tra via Monte di Petà e via Bertola. In manutenzione abbiamo i semafori di Corso Francia all'angolo con Corso Marche. Vi ricordo che domani comincia la Fiera del Libro al Lingotto, saranno ovviamente potenziati tutti i mezzi GTT che raggiungono la sede del Lingotto Fiera e in più sarà istituita anche una navetta gratuita in occasione dello svolgimento della fiera che percorrerà il percorso dalla stazione Lingotto FS fino al centro congressi. Quindi trovate sul sito di GTT i dettagli del percorso, comunque sappiate che il collegamento tra la stazione e il centro congressi è gratuito con questa navetta. Vi segnalo dei lavori per domani che si terranno nel controviale di Corso Trapani tra via Freduro e via Lera e nel controviale di Corso Francia tra via Beaumont e via Drovetti. In manutenzione avremo i semafori di via Nizza all'angolo con via Valenza, di Corso Montegrappa agli angoli con le vie Nicola Fabrizia e Nicomede Bianchi e qui avremo anche i vigili in centro in crocio e poi in Corso Moncaglieri all'angolo con strada Santa Lucia. Questa era la viabilità, noi passiamo a vedere la situazione del tempo, una situazione in evoluzione per così dire, adesso abbiamo cielo generalmente sereno come vedete dalla rilevazione dell'Arpa Piemonte sulla nostra homepage, una temperatura molto alta, siamo intorno ai 27 gradi, siamo più o meno al record di questo periodo, di questi ultimi giorni, umidità intorno al 50%, le previsioni per le prossime ore ci danno un cielo generalmente sereno, nella notte le minime dovrebbero raggiungere i 12 gradi, 12-13 gradi, domani sera è previsto invece un arrivo di una perturbazione quindi da domani sera dovremmo avere qualche perturbazione, possibilità di pioggia per quanto riguarda le massime, domani raggiungeremo intorno alle 14 un massimo di 21-22 gradi. Andiamo a vedere le notizie dal web della città, vi segnalo la notizia relativa a un convegno che si terrà in città da venerdì a sabato presso la Sala Cavaliere di Via Palazzo di Città 14, il convegno ha come tema l'adolescenza come epoca delle passioni tristi, è un convegno ingresso gratuito patrocinato dalla città, trovate le informazioni per poter partecipare proprio a partire dalla nostra notizia, ovviamente come detto prima domani comincia anche la fiera del libro fino al 18 di maggio. Andiamo a vedere la città con le nostre webcam prima di passare agli appuntamenti culturali di questa sera, qui siamo in Piazza Palazzo di Città, l'inquadratura del Conte Verde, vedete un paio di turisti seduti davanti al Conte Verde, ci spostiamo poi in Via Meucci, questa è l'inquadratura del centro città, vedete decisamente più nitida rispetto a questa mattina, qui siamo invece nella zona di Piazza Pitagora per quanto riguarda il traffico non abbiamo problemi a sud, mentre nella zona nord, anche qui vedete rotonda autostrade, non ci sono problemi per la circolazione. Io allora vi ringrazio per averci seguito in questa breve rassegna di notizie, passo la linea a Matteo De Simone per gli appuntamenti culturali di questa sera, l'appuntamento con voi è a domani mattina. Grazie Mirko, buon pomeriggio, vediamo allora che cosa ci riserva questa serata, cominciamo intanto segnalandovi il concerto omaggio a Chet Baker con i musicisti Prodon, Cucchi e Conversano al magazzino di Gilgamesh alle 22.30, al Teatro Alfieri in Piazza Solferino 4, ricette d'amore dal cinema al teatro con lo spettacolo Chuck della compagnia Torino Spettacoli, questa sera alle 21.00. Il Cammino della Speranza è il titolo di un film del 50 di Pietro Germi che viene proiettato questa sera alle 19.00 al Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi al Monte dei Ciappuccini e finiamo segnalandovi un incontro con l'autrice Dacia Maraini che presenta il suo libro intitolato Sulla Mafia. L'appuntamento è alla libreria Coppio di Piazza Castello alle 18.30. Per quest'oggi è tutto, l'appuntamento è per domattina alle 9.15, ringrazio Mara Parena che ci ha aiutato nella messa di londare in questa puntata e vi auguro una buona serata.